Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su The Division, benvenuti in questo primo video effettivo su The Division in cui voglio mostrarvi quelli che sono stati i miei primi progressi di gioco dopo le prime 24 ore dall'uscita del titolo. Ne approfitto anche per dirvi che ho giocato relativamente poco perché sono stato impegnato tutta la giornata dell'8 marzo. Infatti sono stato tutto il pomeriggio con Panic, Alien e Marco di The Tower al party di lancio di Ubisoft a cui siamo stati tutti invitati. E naturalmente per ovvi motivi non abbiamo potuto giocare, anche se in tutta onestà ne è valsa la pena perché era la prima volta che ci riunivamo tutti quanti ed è stato parecchio divertente ve lo posso garantire e abbiamo già organizzato qualcosa che faremo in futuro, però per il momento non voglio spoilerarvi nulla. In ogni caso passiamo all'argomento di questo video, come ho detto ho giocato relativamente poco, circa 3-4 ore questa sera. Sto registrando questo video mezzanotte, io alle 5 e mezza ho una sveglia, giusto tempo di montare e caricarvelo soltanto per mostrarvi quelli che sono stati i miei primi progressi di gioco. Per due ragioni principali, il primo è confrontarmi con quelli che sono stati i vostri progressi, infatti a fine video vi invito a lasciarmi un commento dicendomi cosa di bello avete già ottenuto nelle prime 24 ore di gioco. Sono curioso un po' di vedere com'è l'avanzamento del titolo, se è molto legnoso, se è facile salire o comunque qual è stato il vostro approccio. Secondo luogo riguarderà la Dark Zone, ma ci arriviamo con calma. Quello che state vedendo a schermo in questo momento è il mio personaggio. E lasciando stare l'estetica che è bruttissima, perché per chi non mi conoscesse, spesso, eccetto quando voglio giocare veramente seriamente o comunque quando arrivo nell'endgame finale, io cerco di essere il più brutto possibile. Cerco di mettermi gli indumenti più strani soltanto perché voglio rendere il mio personaggio divertente. O comunque piacevole alla vista. Meno cazzuto possibile, mettiamola così. Quindi ho utilizzato praticamente il set completo della CBRN. Alcuni pezzi della SWAT che sono la sciarpa e la giacca, il cappello da poliziotto che sarebbe da sceriffo praticamente. E per chi in questo momento se lo stesse chiedendo, come ho ottenuto questi pezzi? Molto semplicemente sono andato a riscattarli nella prima base operativa che troverete dall'apposito NPC. E questi set di armatura, quindi quello SWAT, CBRN, eccetera eccetera eccetera, li ho ottenuti per... Alcuni mi pare per aver giocato la Closed e la Open Beta, altri invece per aver prenotato o comunque per aver preso la Collector's Edition c'erano i codici da riscattare. Comunque, come ho detto, volevo un design, volevo un aspetto molto simpatico e l'ho ottenuto. Sembra un buffone. Perfetto. Passando a quelli che sono invece le risorse che ho ottenuto, quindi nella mia borsa, ho trovato ben tre crema al deli. Avevo almeno una chiave della zona nera, ma giusto prima di registrare questo video mi hanno ucciso e me l'hanno fottuta. Molto semplicemente. E ho trovato qualche componente elettronico, qualche parte d'arma o comunque materiali che serviranno per il crafting. Che per il momento è ancora qualcosa di molto lontano perché ho pochi progetti e poche cose che effettivamente posso craftare. Infine, spostandoci a quello che è il mio armamentario, per il momento utilizzo come arma primaria l'M4 della polizia, che è praticamente l'arma che c'era anche nella beta, e come arma secondaria l'MP5N della marina. Una mitraglietta piuttosto forte con cui mi trovavo bene anche nella beta, anche qui. L'arma da fianco invece sarà il profanatore, ossia un fucile a pompa che ho ottenuto sempre grazie all'aver prenotato il gioco, all'aver preso la Collector's forse. Non mi ricordo esattamente quale dei tanti codici era. Comunque l'ho riscattato gratuitamente, sempre dall'apposito NPC che si trova nella base operativa. Per quanto riguarda invece i set d'armatura, diciamo, tutti i pezzi che ho droppato qua e là, svolgendo diverse missioni, partendo a farle subito in difficile per ottenere drop più rari, ad eccezione di questo, Zaino della Guardia Nazionale. Anche questo ho ottenuto gratuitamente, sempre con uno dei codici della Collector's, bla bla bla. Avete capito, metà del mio set mi è stato praticamente regalato. Esattamente. Infine, giusto per arrivare a parlare anche dal punto di vista monetario, come è la mia situazione, ho ben 1820 crediti di gioco, quelli che si ottengono nel PvE, quindi durante le varie missioni e la storyline principale, e ben 1243 crediti della zona nera, accumulati in circa un'oretta di gioco. E devo essere sincero, pensavo ci avrei messo più tempo, per ora non ci sono ancora armi di alta gamma dall'apposito venditore da qui durante la beta ho comprato quelle che vi ho mostrato, quindi me li tarro semplicemente da parte, però diciamo che per portarmi avanti, per portarvi il prima possibile delle review interessanti o comunque dei set di armamento utili, ho deciso di iniziare a tirarli su e, uccidendo diversi rogue, siamo riusciti come team ad accumularne velocemente circa 1000-1250 testa. E in tutto questo quasi dimenticavo di dirvelo, sono livello 6 e rank 7 nella Dark Zone. Adesso ragazzi vi chiedo, qual è la vostra situazione? Vi invito a farmelo sapere qui sotto con un commento. Da parte mia il video volge al termine. Nei prossimi giorni, pian piano che avanzerò nel gioco, pian piano che avrò tempo di dedicarmi al gioco, inizierò a preparare anche già le prime guide, magari dove trovare gli eco, magari quelli che sono buoni set, come fare questo, come fare quello, comunque per aiutarvi, per guidarvi all'interno di questo mondo di gioco. Per il momento tutto ciò che vi chiedo è semplicemente un commento per confrontare com'è stato il nostro start. Quindi io vi ringrazio nuovamente per la vostra attenzione, vi invito a farci il vostro feedback e iscrivervi se non l'aveste ancora fatto per vedere naturalmente tanti nuovi contenuti su The Division. Da parte mia è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!